Musica Musica Sì, 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 signori del convento siamo qua stasera domenica 27 dicembre per festeggiare lui il nostro Fabio! 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 Sì, Fabio! 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 Duoco! Duoco! Non lo direi qua lontano! Se no lo fai, se no la pubblica e il tutto diventa New World! Esatto! Fabio! Che c'hai? Quella si è attaccata al microfono! Non lo lascia più! Allora, Fabio, vi presenti veloziamente al microfono tutti i tuoi amici vicino al microfono! Allora, vi presento i miei ospiti Mauro, Ornella e la... Daniele! 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 Enrico! Federico! Enrico! Enrico il Grande! Mirko! Patrizia! No, questo è Mirko! Il Gigante è buono! Il Gigante è buono! Patrizia e la Mari e questi sono tutti i tuoi amici che sono venuti a festeggiarti stasera è il tuo compleanno? è il tuo compleanno, quanti compri si può dire? 41 oh no, porta bene, porta bene ma chi ti ha portato Mauro qua stasera? è il gigante buono ma ricordiamo che Mauro è il nostro titolo da tempo è la colonna portante è la colonna portante ecco, dopo un po' di no, ma chissimo sei tornato, vero? ok, allora ti hanno fatto un bel regalo? sono stati gentilissimi, sono contento di questa serata, mi hanno fatto un bel regalo a parte quello sono contento perché sono stati tutti insieme a me guarda che hai dato qualissima anche suoi anche pure la comitata un pazienza un pazienza comunque Fabio sei col vento ecco ci siamo? ci siamo vai Fabio allora Fabio cantiamo? si, dai devi cantare vagabondo tutti, tutti insieme tutti insieme certo tutti abbracciami a Fabio dai, abbracciamo Fabio abbracciamo l'altro patriciato si fatto bestia un po' vagabondo un po' l'accelino si inizia? un po' l'accelino un po' l'accelino un po' l'accelino iniziamo? un po' l'accelino io un giorno crescerò e il cielo della vita morerò non lo fai meglio di me ma un bimbo che ne sa sempre dura non può essere là poi una notte di settembre mi svegliai il mio vento non sono altro non sono altro solo in tasca non ne ho ma la sua è rimasto non lo fai meglio di me 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 ma la sua è rimasto da me non lo fai meglio di me non lo fai meglio di me in casa mia è quel bimbo che giocava in un cortile io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro Sono in tasca non ne ho, ma lo su mi è rimasto mio Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono astro Sono in tasca non ne ho, ma lo su mi è rimasto mio Bravi ragazzi, bravi, sì, così si fa, grandissimi, grandissimi Che gruppo, che gruppo, che performance, è fantastica Allora ragazzi, voglio vedere di partire dal basso così, facciamo tutti così Ragazzi, campioniamo dopo, campioniamo Grazie